Recentemente Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello, ha vissuto momenti di tensione all'interno della casa più spiata d'Italia a seguito di un malore improvviso. I compagni di Garibaldi hanno immediatamente avvertito la produzione, richiedendo l'intervento dell'ambulanza. La situazione ha generato un comprensibile allarme tra i fan e i telespettatori, preoccupati per le condizioni di salute del Geffino. Dopo l'accaduto, la famiglia di Garibaldi e alcuni concorrenti hanno offerto rassicurazioni sulle sue condizioni. Rosy Chin, un'altra geffina, ha informato che Giuseppe mangia, parla e si alza da solo dal letto, evidenziando che, sebbene siano ancora in corso gli ultimi accertamenti, la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Nicola Garibaldi, fratello di Giuseppe, ha condiviso un messaggio di ringraziamento per il supporto ricevuto, confermando che Giuseppe sta bene ed è attualmente sotto osservazione. Il grande fratello ha comunicato che, a seguito di un leggero malore, Giuseppe Garibaldi è temporaneamente uscito dalla casa per sottoporsi ad accertamenti medici, assicurando che il concorrente sta bene e rientrerà nella casa appena possibile. Questo episodio ha evidenziato la prontezza di intervento della produzione e la solidarietà tra i concorrenti, oltre a sollevare interrogativi sulla gestione delle emergenze sanitarie in contesti televisivi simili. La comunità dei fan rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando in un rapido e completo recupero di Giuseppe Garibaldi, che ha dimostrato forza e resilienza in questa inaspettata prova. A te piace Giuseppe Garibaldi? Scrivilo nei commenti sotto al video. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime notizie.